Ciao a tutti e bentornati in cucina con Agnese Oggi mani in pasta Prepariamo uno dei formati di pasta che io amo di più Le pappardelle Ma con una piccola variante Visto che siamo in autunno Le faremo con la farina di castagne Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 200 g di farina 0 70 g di farina 0 2 farina di castagne 3 uova E un pizzico di sale Prepariamo un piano di lavoro Un tagliere dove poter lavorare il nostro impasto E mettiamoci subito a prepararle Come prima cosa andiamo a mischiare le due farine E il sale E mischiamole insieme Provociamo il nostro piano di lavoro Creiamo un buco al centro Bello largo E andiamo a rompere dentro le uova E il terzo Ora aiutandoci con una forchetta Andiamo a sbattere leggermente le uova E andiamo a incorporare piano piano la farina Prendetevi il vostro tempo Non andate di fretta Altrimenti tutte le uova usciranno fuori Dal buco centrale Quando vedete Come in questo caso Che abbiamo incorporato abbastanza farina Possiamo pulire la forchetta E iniziare a usare le mani E adesso piano piano Iniziamo a impastare il nostro impasto Come vedete piano piano la farina si assorbe Bene E ora armiamoci di pazienza Dobbiamo ottenere un panetto bello liscio Ci vorranno 10-15 minuti Abbondanti Ci vediamo dopo E io continuo a impastare Eccoci qua Stiamo arrivati Arrotolatela leggermente su se stessa Dobbiamo ottenere un panetto così liscio Copriamolo In carta trasparente E lasciamolo riposare in frigo Per una mezz'oretta Preparatevi poi la macchinetta Per la pasta E faremo le nostre pappardelle Ho tirato fuori la pasta dal frigo L'ho tagliata in 6 pezzettini per comodità Lavoriamone uno alla volta E gli altri li mettiamo da parte Copriamoli sempre Quanto più possiamo Così che la pasta non si secchi Ora prendiamo il primo pezzettino Mettiamo pochissima farina Appiattiamo leggermente Partendo naturalmente dallo zero Iniziamo a stendere e appiattire la nostra sfoglia Tegliamola Tegliamola Parta volta Lavoriamola leggermente E poi ci spostiamo mano a mano Sugli alti livelli Se dovesse appiccicarsi Reputate che appiccichi troppo Spolverate leggermente Con un po' di farina Io sto utilizzando La farina di grano duro Che è una farina leggermente più ruvida Rispetto alle altre Anzi più ruvida rispetto alle altre E non vi fa attaccare la sfoglia Alla macchina Andiamo avanti Così Io raggiungo personalmente Il livello numero 6 Perché la sfoglia mi piace Leggermente spessa Non come le tagliatelle O i tagliolini La pappardella a livello personale Mi piace leggermente più spessa Passatelo anche due volte Il livello 6 Io personalmente lo passerò due volte Ora Appoggiatele al piano Rifinite La parte che non è pari Non vi preoccupate Perché poi la andiamo a rimpastare Insieme agli altri pezzettini Idem Da questa parte Spolveratela Leggermente Con la farina Pieghiamola a metà Ancora con la farina Nuovamente a metà Giratela Verso di voi A misura della pappardella Sono due dita Quindi Circa Questa misura Appoggiate il coltello Appoggiate il coltello E date un colpo secco E ora E ora Una di una volta Le aprite E ora Prendete il secondo pezzettino Impastate leggermente Con le rimanenze precedenti E continuate così A formare le vostre pappardelle Ci vediamo dopo Per il risultato finale Le nostre pappardelle Sono state tutte tagliate E tutte create Ora Non ci resta solo che cucinarle Naturalmente si sposano Con un sacco di ingredienti Autunnali Di stagione Che si trovano in questo periodo Volete scoprire quali E allora Non vi resta che Rimanere con noi Anche domenica prossima Spero tanto Questa ricetta Vi sia piaciuta Noi andiamo a cucinarle E ci vediamo domenica prossima Inviaci Richieste e suggerimenti A Agnese Chiocciola Cucinaconagnese .it Oppure se vuoi Visita il sito www.cucinaconagnese .it 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 .it